Bentornati a tutti ragazzi, siamo qui sempre a Ceneid per la parte 13 della Pokémon Zaffero Bene, non ho allenato la squadra come potete vedere, tutti sono a 43 Bene, siamo qui per l'ultima storia in palestra contro Adrigano In questi difficilissimi trabocchetti di tipo ghiaccio Bene, ma tanto noi a un certo punto cadremo per andare ad affrontare tutti gli allenatori Vediamo Ok, qua Una volta questi trabocchetti li trovavo molto difficili quando ero più giovane, molto più giovane E anche adesso... ho sbagliato Va bene, non importa dai, cadiamo a meno affrontiamo gli allenatori Bene, ho già detto un paio di cavolate Bene, Whalmer, qua aumentiamo un po' la velocità perché altrimenti ci stiamo... due vite Bene, lacerazione, grande... grande... ninjas Sharpido, pugno spine, ciao Sharpido In questo paese ci saranno molto... molto efficaci... Ehm... cartoon e tropius Ma noi cerchiamo di allenare un po' tutti A parte beh, tipo Kamehut è molto... è... è svantaggiato per 4 dal tipo acqua Dato che è di tipo... di tipo terrafuoco Perciò, eh, direi che non è il caso E dai... usa foglie lama Che cavolo, come è possibile che non va capo con un foglie lama? Bene Bene, facciamo anche questa allenatrice con Azuril che usa bolla, ma ovvio Uh, poi Meryl e questo è proprio perché va Azuril dopo Livello 44, quindi mandiamo Swampert Bene, andiamo con Fanghiglia Ah, ha imparato Fanghiglia Andiamo con... dai, riduttore Dai... uh, miss a rollout Molto bene Quindi... mandiamo... primo Swampert Conto questa cupa Quindi, no, bellezza Surf Dai Eh, chissà, non toglie niente, direi Riduttore, livello 44 Molto bene Quindi, andiamo con... eh... il buon... il buon Cacturn Conto queste due Conto queste due L'allenatrice Bene, Azuril Beh, noi andiamo con Pugnospine Azuril ci saluta proprio... subito Bene Picking Anche lui Un mio spi... Uh, Vedovo, attenzione ragazzi Mi sono ricordato dopo, ma questo qua è Vedovo Che spettacolo Vedo, il video 44 Bene Adesso useremo un giga assorbimento per ricaricarci E ne useremo anche un altro per ricaricarci Definitivamente Bene Altro che bozioni, noi abbiamo giga assorbimento Eh, vorrei usare Camel Cavolo, Camel Cavolo, mi muore in due secondi Allora, quindi mettiamo Propius Conto questa Pupa Questa qua si è una pupa Spoglierà No, attenzione, no Dai A me non attacca Ma come si perché non attacca? Ok, boh Madonna Il mio è proprio da... Ti vengo ad ammazzare Luz Allora, ora devo ricordarmi come cavolo si fa l'ultimo pavimento Ciò sono delle cacchiate colossali Questo qua in questo momento cavolo non mi ricordo come diamine si fa Aspetta, fatemi ragionare Solo Mezzo istante Si dovrebbe capire più o meno come si fa Perché no, è un po' che non... Vi spiego, è un po' che non gioco a Pokémon A Pokémon Zaffiro Ecco, ho sbagliato Sono un cretino Non mi ricordo più come si fa quel pavimento Ci starò... Ci starò mezz'ora Ma come vi ho detto Ho il cervello fumato per l'università Quindi non ci capisco più Una fava Bene Allora Qua come cavolo devo fare già? Non mi ricordo più Porca miseria Allora Allora Se sapete cosa vi dico Io lo faccio al contrario Provo E mi sa proprio che era a fare al contrario Però senza sbagliare Perché con i tasti di computer viene facile sbagliarsi Allora Ok Andiamo così 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 Ok Era a fare così Io lo facevo al contrario Con un genio Ok Fatto Bene Adriano A noi Mettemi di presentarmi ufficialmente Sono Adriano Il campione della Lega No Non sono il campione Solo cosa interna Nel tuo modo di fare Faccio qui con un so che di speciale La volta che ti potremo Getter la luce su quello che è successo Nel Gattario di Tempio E su quello che hai fatto La mia dimostrazione Della tua putenza Bene Dai Ok Andiamo Adriano Adriano capopalestra Ultima capopalestra Di questa regione Usa subito dolce bacio Ma noi Lo Mandiamo subito Aca No dai dai ti prego No Dai Oh a casa L'Ulbis maledetto Bene Quanto Silio Mandiamo Medicham Con calci Dai Maledetto Medicham Che fallisce Il calci in volo Quindi perde l'equilibrio Quindi Ti ammazza cadendo Maledetto Ok Milotic Gigasorbime Portiti Bene Andiamo con Magnitude Porca miseria Porca miseria Dai Madonna Ma ti ammazzo Allora Allora Reduttore Non ci credo Ma dai Ma non ci voglio credere Ma mi ha congelato Ma l'ammazzo io adesso Questo qua Eh Eh ma che cavolo Dai Ma che cavolo Di fortuna C'ha Eh Vagia mia che c'ho I revitalizzanti Per revitalizzare Swampert Allora Dammi la Dammi la pozione Per favore Dammi la pozione E non mi E non mi congelare Dai Oh Whiskash Bene Ora È il momento Di Revitalizzare Cacturn Tipo Amnesia Bene Cavolo Doviamo farlo fuori Finchè non usa Allora Dito assorbimento Dai A terremoto Va bene Dai Dai Pugno spine E pugno spine Bene Maledetto Bene Seeking Dove Vedo Usa Vabbè Vabbè Usa Ok Usa piaggioranza Non importa Abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto Super Lattivo La tua Autenticità E magnificenza Come allenatore È spettacolare È un onore Averso gli altri Da tua squadra Ti meriti Questa medaglia Pioggia Bene Abbiamo vinto Ragazzi Bene La medaglia Pioggia Inoltre potrei Usare cascata Ti do anche E ci do anche L'idropulso Madonna Che è Sforzato come Mossa d'acqua L'idropulso A questo punto Il gioco Vabbè Vabbè Ok ragazzi Quindi Io direi di Direi di Andare verso Di Incamminarci Proprio Incamminarci Verso La lega Le pokémon Verso I ridopoli Quindi Io direi di Di cominciare a prendere I repellenti Che ti serviranno E poi Di cominciare a prendere No Non uno Ma ben Dieci Revitalizzanti E Qualche Pozione Bene Ok Ora possiamo Veramente Andarcene Io direi di Io direi di Mettere subito Un repellente Mag Bene Addio Ceneride No 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 Non voglio tornare in alto Adesso voglio tornare in alto Vai Bene Vai Ok Ora Guardiamo solo Dove I ridopoli Dove Andare Tutto A destra Ecco Ma se qua Mi sballano subito la strada Bene Guardate come Andiamo velocemente sul mare Ora mi devo ricordare Quale è il passaggio per andare A I ridopoli Però Non mi pare sia questo Parca Era tipo Non so da quanti anni Che non vado I ridopoli Allora Allora vediamo un po' Se qua Dovebbe essere qua Perché mi pare che si arrivi da sotto I ridopoli Dovebbe essere questo Vediamo Sì è questo qua E questo qua è il passaggio per I ridopoli Eccoci qua Siamo arrivati I ridopoli Dai Eccoci qua I ridopoli Perfetto Purtroppo No Ce la farei Cascata Madonna Madonna Cavolo Ha 3 men Il poveraccio La cascata è potente Però Cavolo Ha 3 men È uno schiavo Io non posso fare altrimenti Ragazzi Dove ho fatto A togliere il riduttore Lo so Lo so 3 men Sono troppe Però Non posso fare altrimenti Quello può andare a eliminare mosse A Forte del Gepri E lo E li faccio scordare tipo Sub E non ci servirà più Bene Quindi io direi che nella prossima parte Anzi Aspettate Guarda su Quanti minuti siamo Quanto siamo 9 9.47 Quindi direi che possiamo fare La via vittoria Bene Molto bene Sì Ancora presto possiamo fare la via vittoria Molto Molto tranquillamente Bene Ok Lo affrontiamo questa Fontallenatrice Con Bolo Contro l'oseglio Vabbè dai Lo mandiamo a casa La mandiamo a casa No Qua c'era Qua c'era fare tutto Vabbè Allora No Cavolo forza Allora Qua ci metterò tipo Una vita Allora Dove cavolo devo andare Qua non mi ricordo Non qua vero No Ecco Porca miseria Ho sbagliato Subito Eh ma il buio Il buio è leggermente difficile Nel suo scopo Quindi devo Devo fare così Allora Allora Così E No Aspettate Ho capito Ho fatto Ho fatto Ho fatto Un'altra cagata Ho capito Niente Niente paura Quindi devo fare così Ma Cavolo Porca miseria Però Sono medio imbecille Oggi Proprio Allora Io vado di qua Posso spingere Ma di qua Oh Finalmente Ce l'ho fatta Allora Qua cosa c'è Spaccaroccia Bene Vediamo Io non mi ricordo niente Questa già vittoria Quindi Oh Qua c'è un allenatore Condodrio Eh io uso Volo Capo Tripletta Bola Bola Madonna Bola Adesso ho mai rotto le palle Mai rotto Ok Questo È sofrano Ecco Ma dai Ma mi Porca miseria Si è rotto Bene Usa calci in bolo Sono in realtà Matto Bene Non ho visto chi ha Vabbè Usiamo forza Ve lo mandiamo a casa Sì Bene Possiamo usare Allora Io voglio sperare Ho proprio due Due cure totali Bene Ok E poi Iperpozione E Iperpozione Madonna Però Tropius Che cavo di imbecilia Che se Cominciamo Cominciamo con i Pokémon Selvatici che non ci lasciano scappare Madonna Tra poco partono Partono le bestemmie Tra poco Allora Io non mi ricordo Come è Di Ammi Si parla di un vittoria In questo gioco Quindi Potrei Prima metterci degli anni E farla Forse qua Allora Vediamo dove siamo qua Bene Stiamo andando nella parte giusta Perché Sono allenatore Che non abbiamo ancora affrontato Foglie lama Eccomi Uff Diretura Poi edistero Incredibile Questa Questa camia è nuova Dai Ma che cavo Madò Sono stronti qua dentro Porca miseria Adesso non c'ho niente Per curarlo Ma che cavo Scusatemi Intanto Allora Qua c'è da fare il surf Allora Andiamo qua Non mi ricordo niente Allora Qua dove si va Potrebbe da qualche parte Sembra Allora Ah ma qua mi pare che Adesso c'è il suo strumento MT29 Contiene Uff Contiene Uff Sì cico buono Lo farò imparare a me diciamo Buono 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 Allora Quindi mi pare che Dovevamo Tipo 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 Andare di qua Cascata Vediamo cascata Guarda che qua non c'è una fava Dai Bene dai Questo Siamo questo allenatore Volo Dai però Adesso Non mi trovo più Se mi fai incazzare Però Ecco Sei un cretino Sei un cretino Dai Ma ora c'è azione Ma Maddio Madonna Madonna Dai Ma che cazzo Madonna Madonna Allora Pinta Di velo 45 per Cacturn Andiamo con Andiamo con Il buon Forza Ma io ho le palle Ma io Dai però che cazzo Mi sono Mi sono abbattendo tutti Dovevamo facciata 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 Ancora facciata Mi sono al telefono Un attimo Che sto registrando Allora Allora vai Dai Bene C'è la squadra Mezza andata C'è Allora Stai vitalizzando Madonna Madonna Ma dai Che cavolo di Che cavolo di scarsi sono No Si deve usare tutte le pozioni Giustamente Eh vabbè Addirittura Dai Andiamo Andiamo solo Faccio una cura totale Per fortuna Quindi Cura totale La do subito As one Per se Bene Andiamo di qua Che palle Ma Non so Sto fatto a fuggire Incredibile Ok Applantiamo questa U con me Will Quindi Non abbiamo nessuna mossa È tipo fuoco Mi sembra Mi sembra giusto Dai Foglia rama Bene Vabbè Non so perché Ha cambiato Però pace Dai però Dai Madonna Tropius Che scasso Che scasso Pugnospine Madonna Pugnospine Pugnospine è potente Come mossa Devo dire Comunque Ma adesso Tropius Se ne stai Lì affanculo Tropius Proprio Ecco cosa c'è Allora Io sto facendo Al buio Se accabo di Vittoria Bene Affrontiamo questo Lacerazione 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 Madonna Bene Beh Rion Sub Va a casa Tenta Cruel Quindi Mandiamo Mandiamo Medici Con Confusione Ecco Possiamo Usare Forza Ecco Sento che mi hanno anche rotto un po' le palle In questa Vittoria Spugnospine Micchia Sento che se le pagniamo così Non è una bestemmiana In questa parte Allora Madonna Quanto cavolo è ancora lungo Questa Vittoria Cavolo Ma qua Ma qua ci sono già stato Io Allora Un secondo Vabbè Facciamo che Facciamo ragazzi che ci salutiamo qui E nella prossima parte Finiremo le due vittorie Quindi Rocco 5 vi saluta Nella prossima parte Finiremo le due vittorie Faremo il super 4 Quindi Vi saluto Bye bye Bye